Frigata, struttura abbandonata faccio un po' d'acqua della pioggia eh c'è un buco lì minchia nella parete eh l'avranno presa a calcio perché vedi purtroppo non molti piace fare urban explorer ma anche i vandali roccio per terra ci sono dei vetri i vetri, i capi, qua è proprio tutto in disuso guarda lì minchia le grate occhio mamma mia chi ha la giungla di Tarzan qua ci abbiamo altri buchi vedi là porca vacca faracinesca tutti i vetri rotti difficile modo per entrare e non ne vedo ma che si ficcano nella scarpa lo rovinano qui c'è l'ordua si alla fine era uno di quei cosi di plastica per attaccare i cavi siamo discreti va qui c'è l'ordine qui c'è l'ordine no 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 cosa c'è? bello ero vediamo non c'è un po nelle palle nessuno occhio qua, occhio qua, c'è un chiodone che fanno? dimmi tu dobbiamo far veloce perché qua è troppo in vista vedi lì ci sono delle persone stai basso stai basso stai basso di che altro sai noi non facciamo nulla di male perché siamo urbexer però il problema è che la gente non lo capisce direi di venire la sera direi per la seconda parte del video eh? dovrebbe far venire per una fotomimitica eh bravo qua è perfetto qua occhio a scendere eh ci sono dei ranni pure ma quelli sono i miei colleghi inizia a andare casinaro qua ci sono delle edere o cioè droppiamo finora qua finiamo in drop scappiamo subito tanto qua non c'è nulla da rubare si perché ce ne andiamo subito ahahah 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 ahahah